Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie cavalcabile per bambini. Altezza 29 lunghezza 47 larghezza 21 Ruote rivestite in gomma silenziosa Rivestimento lavabile Lunghezza CM47 Larghezza CM21 Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.